Il vero eroe, il vero soggetto, il centro dell'Iliade è la forza. La forza adoperata dagli uomini, la forza che sottomette gli uomini, la forza davanti alla quale la carne degli uomini si ritrae. L'anima umana vi appare continuamente modificata dai suoi rapporti con la forza, trascinata, accecata dalla forza di cui crede di disporre, piegata sotto la costrizione della forza che subisce. Coloro che avevano sognato che la forza, grazie al progresso, appartenesse ormai al passato, hanno visto in questo poema un documento. Coloro che, oggi come un tempo, sanno discernere la forza al centro di ogni vicenda umana, vi trovano il più bello, il più puro degli specchi. La forza è ciò che fa di chiunque le sia sottomesso una cosa. Quando è esercitata fino in fondo, fa dell'uomo una cosa, nel senso più letterale, perché ne fa un cadavere. C'era qualcuno e un attimo dopo non c'è nessuno. C'era Achille e un attimo dopo non c'è nessuno. C'era Ettore e un attimo dopo non c'è nessuno. Adesso c'è il silenzio. Ma prima del silenzio, la battaglia. Quella dell'Iliade è quella di questa monografia sull'Iliade di Omero. Ci tuffiamo in un viaggio straordinario alla ricerca delle nostre stesse radici culturali, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie si è davvertiti. Ben trovati, ben trovati qui in questa nuova monografica che dà via al nuovo ciclo delle monografie. Monografie che adesso, insieme allo special Cogito, saranno settimanali e volevo partire con le radici. Le radici della nostra civiltà. Sì, perché l'Iliade è, senza esagerare, il poema fondativo della civiltà ellenica e perciò la base della cultura occidentale. E se qualcuno vuole capire perché siamo fatti in un certo modo, perché pensiamo alle cose in un certo modo, come si è costituita la nostra cultura, beh, l'Iliade è un punto da cui non si può prescindere. È un poema di straordinaria importanza e racconta alcuni fatti storicamente avvenuti, anche se in passato sono stati anche messi in dubbio, ma sono storicamente avvenuti, circa nel X-XI secolo a.C. E la stesura del poema si colloca invece fra il VII e l'VIII secolo a.C., quindi a distanza di circa 300-400 anni. È interessante questa cosa perché Omero, o chi per lui, come poi vedremo, è come se avesse raccontato per il suo presente una storia di una guerra avvenuta 400 anni prima. Insomma, è come se oggi qualcuno scrivesse un'opera ambientata in una guerra avvenuta nel 1600 e fra 2700 anni qualcuno starà ancora leggendo quest'opera. È una cosa notevole e potremmo chiederci ma perché l'Iliade viene ancora letta oggigiorno? Un poema così antico, così strano, così diverso da molti aspetti rispetto a quello che noi viviamo, un mondo veramente mitologico, per quanto poi storicamente reale. Perché in realtà dentro all'Iliade ci sono delle tracce della nostra esistenza. Perché è questo importante comprenderlo e deve comprenderlo soprattutto chi magari sta iniziando a studiare, adesso sta approcciandosi alla letteratura, non solo quella epica ma anche quella cavalleresca, anche il neorealismo, tutta la letteratura è la traccia della nostra esistenza, è la sedimentazione di quelle idee, di quei sentimenti, di quelle emozioni, di quei problemi, di quelle paure, di quei desideri che sono riusciti a stratificarsi dentro di noi ed è come se noi fossimo lo strato più superficiale. Ma per capire perché questo strato che io sono superficialmente è conformato in un certo modo, beh, devo andare a guardare gli strati precedenti, quelli che sono stati sommersi dalla valanga del tempo. L'Iliade non è stata sommersa dalla valanga del tempo, perché noi possiamo trivellare, possiamo arrivare al nocciolo e vedere che cosa si raccontava e perché oggi siamo fatti in un certo modo, almeno speculando. I simboli letterari servono a questo, sono idee che sopravvivono al tempo e nella stratificazione possiamo ancora ritrovare per chiederci ma cos'è che dice questo su di me. Leggere l'Iliade quindi non come documento storico, ma come traccia di quello che io sono. Questo è l'epica, questo è il simbolo, questo è il testo antico. C'è un'ipotesi, qualcuno potrebbe quindi dire ma perché leggere, perché qualcuno ha deciso 2700 anni fa di scrivere un libro su una guerra avvenuta 400 anni prima, certo perché è stata una guerra importante, certo è. L'ipotesi è che la guerra di Troia, che viene appunto raccontata nell'Iliade, la guerra di Ilio, sia la metafora di guerre contemporanee ad Omero. Infatti, se Omero è vissuto fra l'ottavo e il nono secolo, settimo, settimo ottavo secolo più che altro, comunque con buona probabilità nell'ottavo secolo avanti Cristo, noi sappiamo che nella Grecia, nella civiltà greca, lì ci furono le guerre di conquista. Quindi la cosa più probabile è che Omero, ovvero l'autore di Iliade a cui diamo il nome di Omero, abbia scritto quest'opera un po' come Manzoni ha scritto nell'Ottocento i Promessi Sposi. Sapete che Manzoni ambienta i Promessi Sposi 200 anni prima della sua contemporaneità, perché la dominazione spagnola gli serve per raccontare la dominazione che sta vivendo lui nell'Ottocento. E quindi è possibile che l'autore dell'Iliade abbia fatto la stessa operazione, prendere la guerra di Troia come metafora della guerra che stava vivendo. E questa è una cosa interessante. L'obiezione che viene fatta a questo tipo di ipotesi è il fatto che comunque i contenuti dell'Iliade sono stati per larghissima parte tramandati oralmente. Non si sa bene per quanto tempo, però insomma sicuramente per almeno un paio di secoli, qualcosa di più, perciò questo farebbe cadere. Allora ci sono alcuni, io non entro nella questione America perché è un po' troppo profonda, un po' troppo specialistica e sicuramente non adatta a una monografia come quella di stasera, però possiamo dire un po' di cose. Possiamo dire che secondo alcuni Omero è soltanto un riciclatore ricompositori di testi e ci sono delle prove, degli indizi che ci permettono di pensarla così. Secondo altri invece Omero ha preso delle storie raccontate in precedenza e le ha riforgiate con una volontà narrativa diversa rispetto a quella degli Aedi. Noi non sapremo mai veramente precisamente che cosa, come è andata, però la questione omerica è molto aperta. C'è un unico autore dell'Iliade? Cioè il libro in sé per sé è fatto da un unico autore? Secondo tanti storici è improbabile. Per esempio, e sotto trovate i consigli di lettura, nel saggio introduttivo dell'edizione dell'Iliade Burr, quindi quella un po' più, diciamo così, sotto forma di poesia e meno prosa, c'è un saggio introduttivo che spiega molto approfonditamente la questione America e secondo quel saggio il problema vero è che è improbabile che ci sia un unico autore, un unico estensore anche del testo diciamo così scritto, perché nel testo ci sono tante incoerenze, incoerenze stilistiche, incoerenze narrative, quindi ci sono stili diversi nel testo, ci sono anche cose in contraddizione. La cosa però più eclatante, secondo me, anche secondo questo saggio, è il fatto che durante l'Eliade vengono espressi valori diversi storicamente parlando, cioè ci sono dei valori politici ed etici che potevano vigere un secolo prima e un secolo dopo non più. L'esempio perfetto è il fatto secondo cui per tutto il poema viene raccontato senza grande scandalo lo scempio dei cadaveri. Certo c'è un rimando, c'è il fatto che sì, i cani e gli avvoltoi che mangiano i cadaveri è una cosa, però non c'è una condanna etica del fatto che i cadaveri di guerra venissero lasciati allo scempio della natura. Poi però arriva l'ultimo libro, il ventiquattresimo libro, quello della supplica di Priamo, in cui lì si vede invece un valore storicamente affermato nella tarda età ellenica, in cui Priamo dice ad Achille tu in qualche modo sei tenuto da un punto di vista etico e della legge degli dèi a restituire il cadavere di Ettore. E lì Achille ragione e si vede che c'è un valore diverso. Questo è uno degli esempi forse il più eclatante che ci porta a dire è probabile che non ci sia un solo autore dell'Iliade, è probabile che invece ci siano molti autori, c'è stato un collage e ci sia un autore eminente e forte che però poi è stato diciamo così rimescolato insieme ad altri. Comunque leggetevi il saggio iniziale perché è sicuramente interessante. La cosa più probabile però diceva è che Omero sia stato un ricompositore e che la stesura abbia trovato luogo per motivi personali e politici, quindi che l'autore Omero abbia steso la gran parte di questo testo, come dicevo, un po' come Manzoni con I promessi sposi, quindi con l'intento di creare una metafora per raccontare il suo mondo contemporaneo, però poi diciamo così è stato magari completato da altri brani e via dicendo. L'Iliade ha un'inesauribile quantità di temi. Si parla di guerra, ovviamente, si parla di vendetta, si parla di inganno, di amicizia costruita, tradita, perduta, si parla del ruolo del destino, il destino gioca un ruolo fondamentale, si parla del rapporto con il divino, si parla di libertà, di sofferenza, di amore. Ah peraltro non ho detto ma il brano con cui ho aperto la monografica è tratto da uno dei testi che utilizzo per la bibliografia di questa monografica ed è La rivelazione greca di Simone Veil che ha scritto uno dei testi più belli sull'Iliade, straordinari, autrice, che vedremo perché utilizzeremo alcuni suoi brani questa sera per capire meglio questo libro. Quindi dicevo si parla di sofferenza, di amore, è un libro che in 2700 anni di storia non ha mai finito di parlarci di noi stessi e forse oggi con gli avvenimenti che stiamo vedendo dipanarsi nel mondo, forse ancora di più, perché voglio rileggervi questa parte dell'introduzione con cui ho aperto la monografica, ciò che dice Simone Veil, dice Veil, scusatemi, coloro che avevano sognato che la forza grazie al progresso appartenesse ormai al passato hanno visto in questo poema un documento, cioè ci sono persone che si erano convinte della fine della storia, ovvero che eventi come quelli della guerra di Troia non sarebbero mai più esplosi nel mondo. Per queste persone l'Iliade è un documento storico che racconta una storia passata, ma ci sono altri che sanno discernere la forza al centro di ogni vicenda umana e vi trovano uno specchio. Ecco, prima di tutto dobbiamo decidere che tipo di Iliade vogliamo. Siamo persone convinte che l'umanità in 2700 anni è cambiata tantissimo, che il mondo è radicalmente mutato e che guerre come quella di Troia non possono più avvenire, allora sì l'Iliade è un documento storico, mitico, mitologico, oppure siamo convinti che l'umanità non sia poi tanto cambiata. E io sinceramente ve lo dico, propendo per questa seconda strada, perché nell'Iliade non abbiamo soltanto la guerra, intesa come la violenza, lo scatenarsi del caos, del disastro, della catastrofe, no. Abbiamo anche tutti gli elementi che dicevamo prima, il tradimento, l'angoscia, la sofferenza, la perdita, l'amicizia, sono tutte cose che sono nostre. L'Iliade mi cattura ancora oggi quando la leggo e mi commuove perché parla di me, perché parla di te, non parla, non parla veramente, non parla di antichità, non parla di mondi passati. Ed è questa la cosa veramente importante. E mi viene sempre in mente la citazione di Borges quando disse, noi raccontiamo sempre tre storie, una d'amore, una di viaggio e una di guerra. E mi sembra abbastanza chiaro che Borges non potesse che riferirsi in massima parte proprio all'Iliade. E questa sera cerchiamo, come sempre, di sviscerarla un po' insieme. Quindi benvenuti a tutti, benvenuti a tutti. Sono qui, insomma, per questa prima monografia del nuovo ciclo, nuovo corso. Vi ricordo che le monografie adesso saranno settimanali e ci lanciamo nell'Ilia della prossima settimana. Ci sarà l'Odissea. Ovviamente se seguite newsletter e tutto quanto saprete anche il giorno effettivo in cui uscirà, ci sarà la live monografica sull'Odissea. Però mi sembrava doveroso. Siamo in tantissimi. È bellissimo vedervi 600 persone già, insomma, di martedì sera qui alle 21 e 36 per ascoltare una lezione, una monografica sull'Iliade. Sono molto contento. Però vedo ancora meno di 300 mi piace. Ricordatevi che se seguite la live è importante mettere un bel mi piace, mi raccomando. Io do già un'occhiata. Vediamo se c'è già qualcosa nella chat, così prendiamo un po'. Individuo umano chiede in che modo in Omero risiedono le radici della cultura occidentale. È una delle risposte che cercheremo di dare durante questa monografia, anche se è una domanda molto vasta, molto difficile da esaurire in un'oretta e mezza, però proveremo ad essere il più esaustivi possibile. Ric, farei citazioni direttamente dall'opera, assolutamente sì, ci mancherebbe. Comunque, chi non lo sapesse, la prima trascrizione scritta dei poemi omerici dovrebbe essere realizzata durante la tirannia di Ippia o Iparco ad Atene. Assolutamente sì, grazie per l'informazione. Grande il mio Rick, forse è stato io, avrei chiuso tutto e sarei andato a casa. Questo è perché per chi sta ascoltando la differita, io sono dovuto partire tre volte con questa monografia, perché la lettura iniziale mi si rompeva ogni volta. Ma anche perché mi commuove molto quella lettura, cioè Simone Veil è un'autrice che mi commuove, su di lei faremo prestare una monografia ed è una cosa che mi muove, nel senso sarà molto difficile stare seri e senza commozione in questa serata. Allora, allora, io ringrazio tutti voi per essere qua, grazie a chi sta abbonando, grazie a Benedetta, grazie a Francesco, Riccardo e tutti quanti gli altri. Come sempre, prima di partire, due cose fondamentali. La prima è che la monografica ha l'intento di farvi leggere l'opera di riferimento. Quindi, alla fine di questa live, andate a leggervela. Anche perché poi i Lilia dell'Odissea, come vedrete, non sono opere così inaccessibili. Le traduzioni sono molto, molto efficaci, soprattutto quella Mondadori che trovate in descrizione, oppure quella Burr, che ha un comparto critico molto più ampio, quindi veramente accessibili. Ci sono anche due altri libri che andremo a utilizzare. Il libro di Bespalov e quello di Veil, che ci permetteranno di orientarci un po' con delle letture. E quindi, ricordatevi, l'intento della monografia non è quella di farvi passare un'oretta e mezza spegnendo il cervello, ma è quello di dirvi muovete il culo, andate a leggere, perché questa è la cosa importante. In descrizione trovate i libri che consiglio quindi per la bibliografia che ho utilizzato per questa monografica. E prima di iniziare a tuffarci nel primo, primissimo capitolo di questa sera, voglio ringraziare lo sponsor di questa sera, che ci permette di, essere sicuri, navigando nelle strane acque del web, grazie a NordVPN. Cosa? Cosa? Una VPN nel 2023? Ma che stiamo scherzando? E in realtà avere una VPN nel 2023 è una cosa piuttosto importante. Migliora la sicurezza della tua navigazione impedendo ai malintenzionati là fuori di appropriarsi dei tuoi dati. Ti dà la possibilità di accedere a siti e contenuti non disponibili nel tuo paese. E poi protegge la tua privacy anche quando usi connessioni non protette. Insomma, avere una VPN è essenziale per navigare in tranquillità nel ventunesimo secolo. Ma allora, perché NordVPN? Intanto perché è l'unica VPN che aderisce alla politica di no log, ovvero neanche la VPN ha accesso ai tuoi dati quando è attiva sulla tua navigazione. Perché ti dà accesso a costo zero anche ai servizi Threat Protection, ovvero un anti-spyware e anti-malware sempre attivi sul computer, e a NordPass, la cassaforte perfetta per le tue password. E poi perché NordVPN è partner di Daily Cogito da ormai molto tempo e io sono utente NordVPN da molti anni e non potrei più farne a meno. Grazie a Daily Cogito e al link che trovi in descrizione avrai accesso a NordVPN con uno sconto esclusivo e alcuni mesi gratis in più inclusi in un prezzo imperdibile. Inoltre, il servizio prevede un rimborso completo in caso di disdetta entro 30 giorni. Non c'è nessun motivo per non provarlo. Grazie a NordVPN e grazie a chi userà il nostro link per iniziare a usare questo fantastico servizio. Adesso torniamo alla trasmissione. E rieccoci qua, quindi perfettamente allineati con la nostra live e direi che possiamo partire con il primo capitolo. Allora vi ricordo anche qua brevemente che la monografia, come sempre, è suddivisa in tre capitoli. Io parto con il capitolo e poi alla fine del capitolo torno a leggere un po' la chat. Per le domande andate a mettere le vostre questioni nel box blu che c'è nella chat perché se mettete le domande importanti nella chat, normale, rischiano di perdersi. Nel box blu invece è molto più facile che riusciremo ad andare a leggerle come si deve, quindi mi raccomando. E partiamo con il primo capitolo di questa monografia. Fermi che devo mettere il segnalibro, perfetto, così poi so dove è. E il titolo del primo capitolo è La forza che fa tutti piccoli. E come sempre partiamo con una citazione. Omero e Tolstoi hanno in comune l'amore virile, l'orrore virile della guerra. Ne pacifisti, ne guerrafondai. Entrambi conoscono, raccontano la guerra quale essa è. Il suo perenne oscillare tra l'ardore umano che divampa nella gioia dell'aggressività e il distacco del sacrificio in cui si compie il ritorno all'uno. In vano cercheremmo nell'Iliade e in guerra e pace una condanna esplicita della guerra in quanto tale. La guerra la si fa, la si subisce, la si maledice o la si celebra come il destino. Non la si giudica. Ho voluto cominciare con questa citazione perché il termine guerra è un termine molto fastidioso. Quando parliamo di guerra, noi entità privilegiate della storia che mai abbiamo vissuto una guerra, se non quella interiore, come dice Fight Club, siamo propensi a giudicarla, a dire no, la guerra è brutta, la guerra fa schifo. E vabbè, ci mancherebbe, grazie tante. Siamo mica Carlo Rovelli qua, ok, sulla 7. Certo che fa schifo la guerra. Il punto è che affermare la distanza etica nei confronti della guerra ci impedisce di comprendere spesso il fenomeno della guerra. Perché la guerra, come vedo in chat avete anche scritto la parolina magica, è polemos. Non è la guerra intesa nel senso dell'evento storico, o meglio, certo, ma è soprattutto il polemos come concetto, ovvero l'evidenza secondo cui la vita umana è conflittuale. Questo lo diceva perfettamente Eraclito. Polemos di ogni cosa è sovrano e tutte le cose comanda il polemos, quindi il conflitto. L'Iliade, prima di raccontare la guerra intesa come un atto storico, racconta la guerra intesa come atto esistenziale. Racconta la rottura, racconta la perdita, racconta il conflitto, racconta la polemica, racconta il litigio, racconta l'attrito fra Agamennone e Achille, l'attrito fra Ettore e Achille, attrito che diventa bestiale. Insomma, il punto essenziale dell'Iliade è che la guerra è un atto storico, ma solo perché all'interno c'è uno svolgimento esistenziale. E la parola che utilizza Simon Veil, che utilizza Bespalov, riguardante proprio questo fatto della guerra è la parola forza. E la grande potenza dell'Iliade sta nel fatto che ci racconta la forza come qualcosa che distrugge tutto e tutti, che non lascia vincitori e vinti. Infatti la forza nell'Iliade, nell'epica omerica direi, è un destino ineluttabile, inesorabile. Non possiamo sottrarci alla forza e non possiamo sottrarci alla guerra. Essa si scatena, viene esercitata, esplode. E la forza? Nessuno la cerca mai, ma continua a pervadere la vita degli esseri umani. Nessuno la esercita la forza, anche se a un primo sguardo potrebbe sembrare così. Io penso che qualcuno eserciti forza su di me, perché lo vedo come mio nemico. Ma ben guardare con lo sguardo di Omero, quindi lo sguardo del narratore onnisciente, tutti sono attraversati dalla forza. La forza è quindi un demone che prende possesso di volta in volta dei personaggi dell'Iliade. E questo è un punto essenziale da comprendere. Perché? Perché ci dice subito un presupposto psicologico-culturale essenziale. Il destino ha trame che neanche il più potente può sovvertire. Questo è il vero e proprio ethos del poema. Cioè è proprio l'idea centrale del poema. E ce lo dice anche Simone Veil, che scrive quanto segue nel suo La Rivelazione Greca. Scrive la Veil che tutti siano destinati, nascendo a subire la violenza, è una verità a cui l'imperio delle circostanze, chiude gli spiriti degli uomini. Il forte non è mai assolutamente forte, né il debole assolutamente debole, ma entrambi lo ignorano. Non si credono della stessa specie. Il debole non si considera il simile del forte, né è considerato tale. Chi possiede la forza si muove in un ambiente privo di resistenza, senza che nulla nella materia umana attorno a lui sia di natura tale da suscitare, tra l'impulso e l'atto, quel breve intervallo in cui risiede il pensiero. Dove il pensiero non ha posto, non ne hanno né la giustizia né la prudenza. Fermiamoci con un secondo, perché poi la lettura continua, ma voglio commentare questo. Prima dicevo, certo che la guerra è brutta, ma non facciamo i Carlo Rovelli, perché condannare la guerra, condannare la forza, è un atto che si può fare quando si è fuori dalla forza, fuori dalla guerra. Perché quello che dice Laval qui è fondamentale. Dove il pensiero non ha posto, non ne hanno né la giustizia né la prudenza. Nessuno che sia coinvolto direttamente nell'atto della forza, nella possessione demoniaca della forza e della guerra, che nell'Iliade è così pervasiva, può fermarsi a pensare e giudicare l'atto che ha compiuto, la guerra che ha scatenato, il conflitto che ha permeato le sue carni. Il giudizio è, nell'Iliade, assente nel momento in cui la forza pervade le gesta degli uomini e dei personaggi. Questa è una grande intuizione, ma andiamo avanti. Per questo gli uomini armati agiscono duramente e follemente. La loro arma affonda in un nemico disarmato che ha le loro ginocchia. Trionfano di un moribondo descrivendogli gli oltraggi che subirà il suo corpo. Achille sgozza 12 adolescenti troiani sul rogo di Patroclo, con la stessa naturalezza con la quale noi recidiamo fiori per una tomba. Mentre usano il loro potere, non sospettano mai che le conseguenze dei loro atti li faranno piegare a loro volta. Quando con una parola si può far tacere, tremare, obbedire un vegliardo, si riflette forse che le maledizioni di un sacerdote hanno importanza agli occhi degli auguri? Ci si astiene forse dal portar via la donna amata da Achille quando si sa che lei o lui potranno soltanto obbedire? Quando Achille gioisce nel vedere in fuga i miserabili greci, può forse pensare che questa fuga, che durerà e finirà a suo piacimento, costerà la vita al suo amico e a lui stesso? Così, coloro a cui è stata concessa in sorte la forza periscono per avervi fatto troppo affidamento. La forza è una possessione, possiede i personaggi, possiede i re, possiede persino gli dèi e la forza si manifesta. Si manifesta come violenza, si manifesta come ira, si manifesta come passione. E l'Iliade racconta la perdita di controllo della ragione in un campo di battaglia che prima di essere quello campale è quello della mente, è quello dell'animo. È per questo che l'Iliade è così attuale, perché questo meccanismo non è cambiato negli ultimi 2700 anni. Ancora oggi, e lo vediamo in Ucraina, lo vediamo nel dibattito, lo vediamo, le passioni ci possiedono e ci fanno perdere cognizione. Ci impediscono di fermarci, fare il proverbiale bel respiro e pensare che cosa sto diventando. La forza trasforma Achille, Agamennone, Ettore, trasforma Odisseo, trasforma Patroclo, trasforma tutti quanti in qualcosa su cui loro stessi non hanno il controllo. E questo è l'ethos dell'Iliade, è ciò che ci racconta l'Iliade, ma non solo l'uomo, anche il Dio, anche il Dio non ha il controllo della forza, ma ne è controllato. Vi leggo un piccolo brano tratto dal libro di Bespalov, lo trovate in descrizione, ed è sull'Iliade. Bellissimo libro, è molto breve, peraltro, una bella guida. E scrive Rachel Bespalov. Morire, per Ettore, è abbandonare allo scempio tutto ciò che ama. Tirarsi indietro è rinnegare ciò che l'oltre passa. Quella gloria, oggetto di un canto futuro che resusciterà l'Ilio nei secoli a venire. Davanti alle mura, dove si accinge a incontrare Achille, turbato da presentimenti di sconfitta, dalle suppliche di Priamo e di Ecuba, Ettore ha una estrema esitazione. Perché non salvaguardare la pace nella dignità, secondo la formula consueta, promettendo ad Achille la restituzione di Elena e la spartizione di tutte le ricchezze di Troia? Ma subito si ravvede. Achille non decide la guerra, è la guerra a decidere di lui. Non si può ammansirlo con promesse, placarlo con ragionamenti, piegarlo a sentimenti di umanità, più di quanto si possa fare con un ciclone. Eccolo, questa è una frase eccellente e essenziale per comprendere questo spirito che permea tutta l'Iliade. Achille non decide la guerra, è la guerra a decidere di lui, perché l'ira è un demone che lo possiede. Un demone caotico che manda all'aria tutto, che impedisce anche il ragionamento. Non si può far ragionare Achille, non si può dirgli, scolta, vabbè, facciamo così, fermiamoci, ci spartiamo le ricchezze di Troia, io ti restituisco a Elena, a posto. Non si può, soprattutto dopo la morte di Patroclo, che aumenta a dismisura l'ira di Achille, che lì non cerca più soltanto la vittoria, ma la vendetta. E quindi Ettore, dopo quella scena che leggeremo anche, in cui comincia a scappare intorno a Troia, si ferma e dice, ma cosa sto facendo? Io come posso permettermi di far ragionare? Perché per quello che diceva Simone Weil, Simone Weil, scusate, sbaglio sempre la pronuncia perché il mio professore di teoretica quella volta la chiamava Weil, ma è Weil. Simone Weil lo dice perché in realtà non c'è possibilità di decidere di queste cose, perché la forza è il protagonista e quando la forza si scatena non c'è più spazio per il pensiero, non c'è il ragionamento, non c'è l'idea di giustizia, sarebbe giusto arrendersi, ma non c'è più lo spazio per la giustizia. Mi piacerebbe un sacco che oggi tanti bellissimi patrioti che nel discorso della guerra in Ucraina parlano di diplomazia, comunicazione, distensione, pace, rileggessero questa grandissima opera che ti dice esattamente quello, che se Ettore si ferma e dice, caro Achille, ascolta, veniamo incontro alle tue condizioni, ti lasciamo, non solo verrebbe ucciso lui, ma Troia verrebbe comunque distrutta e resa il suolo, perché ormai le cose sono fatte così aspre, così inaccettabili, così inesorabili. La parola inesorabile è la parola dell'Iliade, così inevitabili che non si può che accettare la lotta. Persino una persona ragionevole, una persona di buon cuore, che ama la sua famiglia come Ettore, una persona che vuole mantenere l'ordine, che è spaventato dal caos e dalla morte come Ettore, non può fermarsi e dire, ascolta, mi arrendo, non c'è resa di fronte al ciclone. Questa è la tragedia dell'Iliade. E allora potremmo star lì a chiederci, ma quando è che è cominciato questo ciclone? E quando è cominciato? È cominciato con il rapimento, con il ratto di Elena? È cominciato con il litigio fra Achille e Agamennon? È cominciato con la morte di Patroclo? È cominciato magari secoli, millenni fa? Beh, Omero da buon greco dice, ma non è mai cominciato. È sempre stato così. Ecco il destino. E che cos'è la forza se non il braccio armato del destino? Ovviamente il pensiero ellenico è un pensiero di ciclicità, di eterno ritorno. Ne parla Nietzsche perfettamente nelle sue opere in cui parla dell'eterno ritorno. Non c'è mai stato un momento in cui si potesse fermare questo ciclo devastante, tragico della storia? Non c'è mai stata la libertà di dire fermiamo tutto, facciamo un bel respiro e viviamo in pace? Non c'è mai stato. Le cose si sono scatenate ben prima che potessero essere capite. Questo è la vera tragedia dell'Iliade. E tutto ciò porta all'incontrollabile ira di Achille. Allora andiamo a leggerla, questa incontrollabile ira. Questa ira che in realtà è proprio la totale incapacità di controllare alcunché. A un certo punto Agamennone, dopo l'offesa per il rapimento, diciamo così, anzi l'imposizione di avere l'ancella di Achille, la schiava di Achille, prova a mandare dei... io... piano, ragazzi, scusatemi, io non spenderò troppe parole per la trama dell'Iliade. Uno può prendersi qualsiasi pagina Wikipedia a sapere la storia. Non sto qua a perdere tempo a dirvi, eh, nell'Iliade succede questo, 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 questo. Mi sembra proprio una perdita di tempo, quindi recuperate se non conoscete la trama dell'Iliade e poi tornate ad ascoltare. Comunque a un certo punto Agamennone, vista l'ira di Achille, manda un'ambasciata, eh, in cui c'è anche Odisse, vi dicendo, per porgere dei doni ad Achille e metterlo in pace. Ma lì ci si rende conto che Achille è al di fuori di qualsiasi pacificazione, di già, e risponde... non conta nulla per me. Odio i suoi doni. Anche se mi desse dieci, venti volte più di quanto ora possiede e di quanto potrebbe avere ancora le ricchezze di Orcomeno e di Tebe d'Egitto, dove ogni casa ha ingenti tesori, Tebe dalle cento porte, per dove passano duecento guerrieri con carri e cavalli, anche se mi offrisse tanti doni quanti sono i grani di polvere o sabbia, neanche così persuaderai il mio cuore Agamennone, prima di aver interamente pagato l'amara offesa. E non sposerò la figlia di Agamennone, figlio di Atreo, neanche se fosse bella come la bionda Afrodite, o piena di ingegno come Atena dagli occhi lucenti. Non voglio sposarla. Un altro fra i Danai si scelga, uno degno di lui, uno più potente di me. Se gli dei mi salvano, se a casa potrò fare ritorno, sarà Peleo a cercarmi una sposa. E in tutta l'Ellade e Aftia vi sono molte giovani Ache, figlie di principi che difendono la loro città, e fra loro mi prenderò la sposa che voglio. È là che il cuore mi spinge, a godere di beni raccolti dal vecchio Peleo dopo aver scelto una sposa legittima, una degna compagna. Niente per me vale la vita. Non i tesori che la città di Ilio Fiorente possedeva, prima in tempo di pace, prima che giungessero i figli dei Danai. Non le ricchezze che dietro la soglia di pietra racchiude il tempio di Apollo, signore dei Dardi, apito rocciosa. Si possono rubare buoie, pecore, pingui, si possono acquistare tripodi e cavalli dalle fulve criniere, ma la vita dell'uomo non ritorna indietro. Non si può rapire o riprendere quando ha passato la barriera dei denti. Mia madre, teti dai piedi d'argento, mi parla di due destini che mi conducono a morte. Se resto qui a battermi intorno alle mura di Troia, non farò più ritorno, ma eterna sarà la mia gloria. Se invece torno a casa, nella patria terra, per me non vi sarà gloria, ma avrò lunga vita. Non mi raggiungerà presto il destino di morte. Ed anche a tutti gli altri io vorrei dire, prendete il mare, tornate a casa, mai vedrete la fine dell'alta città di Ilio. Su di essa Zeus, dalla voce tonante, ha steso la mano. I guerrieri hanno ripreso coraggio. Ora voi ritornate, riferiti ai principi Achei. Il mio messaggio è compito, questo dei capi, affinché meditino un altro piano, un piano migliore, per salvare le navi e con le navi tutto l'esercito Acheo. A nulla serve quello che hanno pensato, qui hanno pensato. Io persisto nell'ira. Fenice rimanga a dormire con me. Domani potrà seguirmi sulle navi in patria. Se lo vorrà, non lo porterò via con la forza. Questo brano di una potenza immane, già soltanto in queste righe ci sono talmente tante cose da dire. C'è appunto l'ira che si manifesta come irrimediabile. L'ira di Achille non sente ragioni. Non sente ragioni nei confronti di un alleato, Agamemnon. E pensate a come potrebbe mai sentire ragione poi nei confronti del nemico, dell'hostis, Ettore. È irrefrenabile, è un ciclone, come dice Bespalov. Non può essere portato alla ragione. E qui è l'unico momento in cui la storia potrebbe andare in un modo diverso. Sì, perché la storia potrebbe andare in una direzione diversa. Achille potrebbe decidere di tornarsene a casa, in Grecia, e vivere una lunga vita senza gloria, ma una lunga vita con una sposa scelta da suo padre, con i frutti della casa di Peleo e via dicendo. Dall'altro lato invece continuare a battagliare. Ma la battaglia? Eh lui si sta scioperando dalla battaglia per l'offesa ricevuta da Agamemnon e trasformatosi quindi in rivale, nemico. La questione è che questa, leggendo il poema, non è una scelta. Perché? Perché le cose sono già avvenute in un modo che renderà l'epilogo inevitabile. Questa è la genialità di questo poema. Noi sappiamo già che Achille non tornerà. Questa è la tragedia dell'autore e del lettore. Per quanto possiamo stare a dire, oh mio Dio, ma quanto sarebbe meraviglioso se Achille si rimettesse adesso insieme a Patroclo su quella nave e tornasse in Grecia. Immagina Ettore che continua a vivere con Andromaca e suo figlio è Troia che non cade. Ma sappiamo già che le cose non andranno in quel modo. L'ira di Achille è figlia di un processo storico su cui nessuno ha il potere se non il destino. Neanche come vedremo gli dèi, neanche Zeus ha la possibilità di fermare quell'ira. Simon Veil scrive un'altra cosa importante riguardo di questo. Fermi che adesso prendo la lettura. Abbiamo un bel po' di lettura questa sera quindi insomma abbiate pazienza. Simon Veil scrive Così la violenza schiaccia quelli che tocca. Essa finisce con l'apparire esterna a chi la esercita e a chi la subisce. Nasce allora l'idea di un destino sotto il quale i carnefici e le vittime sono parimenti innocenti. I vincitori e i vinti. Fratelli nella stessa miseria. Il vinto è causa di una sventura per il vincitore come il vincitore per il vinto. Perché in fin dei conti questa è la tragedia di Achille. La tragedia di non poter pensare, riflettere, fermarsi. La tragedia di essere posseduto dall'ira e dalla forza è quella di non potersi chiedere quali saranno le conseguenze. Per chiedersi quali siano le conseguenze bisogna fermarsi, sottrarsi all'ira. Ma non può farlo. E sulla nota del né vinti né vincitori anche Bespalov scrive una cosa molto bella. Scrive Achille è bello, Ettore è bello perché la forza è bella e solo la bellezza dell'onnipotenza diventata l'onnipotenza della bellezza ottiene dall'uomo quel consenso totale alla propria distruzione, al proprio annientamento, quella prosternazione assoluta che nell'atto di adorazione lo consegna alla forza. Nell'Iliade la forza appare dunque come la suprema realtà e insieme la suprema illusione dell'esistenza. In essa Omero divinizza la sovrabbondanza di vita che prorompe nel disprezzo della morte, nell'estasi del sacrificio e al tempo stesso denuncia il fatto che la muta in inerzia. L'impulso cieco che spinge la forza fino all'apice del proprio sviluppo, fino all'annientamento di se stessa e dei valori che ha generato. Anche questo è un punto importante, la forza è bella. In tutta l'Iliade la forza è gloriosa, è corrispondente alla bellezza e di fronte a questa tentazione ecco che si scatena la passione e l'ira che si tramuta nell'ineluttabilità del massacro, della violenza. E in questa dualità l'uomo non può decidere nulla ed è per questo che i vinti e i vincitori sono sullo stesso piano perché come vedremo ancora più avanti il presagio del vinto nell'Iliade dice sempre al vincitore che quella vittoria lui la pagherà carissima. Il presagio, l'augure, la profezia c'è sempre. Omero non si risparmia questa cosa. Quando tu ti lascia andare alla forza, all'ira, alla passione, sei guidato da qualcosa di glorioso che pagherai in un modo incredibilmente caro. Persino gli dèi, dicevo, si dimenticano di tanto in tanto di non avere il controllo della situazione, di essere in balia degli eventi. Ovviamente qua è un capitolo che non possiamo aprire però. Il ruolo delle divinità in Omero è interessantissimo perché il Dio non è il Dio creatore, non è il Dio benevolo, misericordioso, non è il Dio dell'Antico Testamento. Il Dio è alato degli esseri umani, il Dio è interprete degli esseri umani e l'essere umano è interprete di ciò che gli dèi gli mettono a disposizione. L'Iliade è un poema in cui continuamente gli dèi intervengono, proteggono l'uno, condannano l'altro, aiutano questo, ostacolano quello, tolgono le armi all'uno, le danno all'altro, continua questa cosa qua. E sempre per dei capricci. C'è Atene, c'è Zeus e continuano a fare casini, è Hermes che porta i messaggi e via dicendo. E allora prendiamo un brano dell'Iliade e leggiamo delle cose che ci ricordano proprio questo aspetto. Aspetta che sto sbagliando la pagina, quindi devo prendere la citazione 3 e 4. Allora fermi che vado a pigliare la citazione 3 e 4. Devo trovarle perché ho un sacco di roba qua. Allora, nel frattempo voi continuate a fare domande e ad abbonarvi. A un certo punto troviamo questo. È un brano dell'Iliade questa. Ma Sarpedonte, quando vide i compagni della corte corazze cadere sotto le mani di Patroclo, figlio di Menezio, rivolta ai lici divini, gridò, vergogna, lici, dove fuggite? Mostrate ora il vostro coraggio. Io affronterò quest'uomo, voglio sapere chi è costui che ha tanta forza, che tante sventure ha inflitto ai troiani, che ha tanti valorosi ha tolto la vita. Così disse e con tutte le armi balzò a terra dal carro. Balzò dal carro anche Patroclo quando lo vide. Come quando due avvoltoi dagli artigli e del becco ricurvo si battono su un'alta roccia con grande strepito, così essi, urlando, si scagliarono uno sull'altro. Li vide e provò pietà il figlio di Crono dalla mente acuta e disse, rivolto a Hera, sua sorella e sua sposa. Ahimè! Ora è destino che Sarpedonte, da mai tanto amato, sia ucciso da Patroclo, figlio di Menezio. Ma nel mio animo incerto il cuore è diviso. O lo rapisco vivo dalla dolorosa battaglia e lo porto nella fertile terra di Licia, o lo faccio morire, permando il figlio di Menezio. Gli rispose la nobile dea dai grandi occhi. Figlio di Crono, temendo il Dio, che cosa hai mai detto? Scusatemi, tremendo il Dio, che cosa hai mai detto? Un uomo, un mortale, da tempo votato al suo destino, vuoi dunque sottrarlo alla morte crudele? Fa pure, ma gli altri dei non saranno d'accordo. Un'altra cosa ti dirò, e tu ricordala bene. Se manderai Sarpedonte vivo nella sua casa, bada che anche gli altri dei non vogliono sottrarre i loro figli alla battaglia violenta. Molti sono i figli di dei che combattono intorno alla grande città di Priamo, susciterai nei loro padri un'ira tremenda. Se lui ti è caro, se il tuo cuore lo piange, lascia che muoia per mano di Patroclo, figlio di Menezio, nella battaglia violenta. Ma poi, quando respiro e vita lo avranno lasciato, manda Thanatos, con il dolce Hypnos, che lo portino in Licia, nel grande paese dove familiari ed amici gli renderanno l'onore della tomba e della stele, perché questo è il privilegio dei morti. E' un pezzo bellissimo questo, è un pezzo bellissimo. Il mio cuore è diviso, il mio animo incerto. Questo dice Zeus, il padre degli dèi. Capiamo che la visione degli dèi che Omero ci porta non è la visione di divinità infallibili, onnipotenti, ma è l'immagine di esseri umani su uno scalino superiore, che non possono sottrarsi al destino. Cadrebbero nello stesso fango degli esseri umani. La frase che poi era da Zeus fa capire qual è la differenza fra gli esseri umani e gli dèi. Gli dèi sono impotenti di fronte al destino, tanto quanto gli esseri umani, solo che lo capiscono. E' come se avessero una visione ulteriore rispetto agli esseri umani, mentre Achille e Ettore non hanno, per quanto sia Achille semidivino, non hanno quella vista. Ma il cuore incerto, l'animo diviso, ce l'hanno tutti. Ed è una cosa essenziale da comprendere, perché nella visione greca, nella visione anche religiosa greca, dobbiamo ricordarci che il destino ha un ruolo molto più preponderante rispetto agli dèi. E gli dèi sono soggetti al destino e sono soggetti anche alle passioni. Perciò, in questo senso, in che modo potremmo ancora di nuovo pensare di avere vinti o vincitori? C'è un'altra citazione che volevo leggervi, sempre inerente a questo argomento, dall'Iliade. Ed è Zeus che è spaventato di fronte all'ira di Achille. Scrive Omero, l'ira di Achille per la morte di Patroclo, che si scatena dal libro ventesimo al ventiduesimo. Ah, scusatemi, no, questo non è, giusto, questo è tratto dal saggio introduttivo all'edizione Mondadori dell'Iliade, scusatemi, ok, che è di, dopo ve lo trovo. L'ira di Achille per la morte di Patroclo, che si scatena dal libro ventesimo al ventiduesimo, è furia selvaggia, contraria ogni norma e ogni codice, e sfocia in una trasgressione eccezionale, lo scempio del cadavere di Ettore. È un'ira che contagia l'intero universo, precipitandolo nel caos. Mentre l'eroe compie le sue stragi feroci, gli dèi combattono fra di loro, un dio fiume, lotta col dio fuoco, tutto sembra travolto in un unico immenso furore, privo di senso e di scopo. Zeus teme che quest'ira terribile per l'amico possa sovvertire il corso del destino stesso, e alla fine interviene per opporre alla follia dell'eroe l'unico mezzo che possa neutralizzarla, l'ira degli stessi dèi. Gli dèi sono indignati, e più di tutti gli immortali io stesso, perché Achille nella sua follia tiene Ettore presso le navi. Questo è ciò che dice Zeus. Solo gli dèi, solo agli dèi Achille si piega, e così si conclude il secondo tempo dell'ira. Capite bene che gli dèi devono fare uno sforzo enorme per riprendere il controllo di cose di cui hanno perso il controllo, e in questo entriamo poi nel vivo, che è lo scontro fra Ettore e Achille. Ettore e Achille nell'Iliade, che cosa sono? Sono due, adesso la dico, sono due forme concettuali. Io quando ho letto l'Iliade, quando poi mi capitò di leggere la nascita della tragedia di Nietzsche, in Ettore e Achille ho sempre visto il dualismo raccontato da Nietzsche del Dionisiaco in Achille e dell'Apollineo in Ettore, in questa forma concettuale che cerca di raccontare la necessaria ambivalenza e concomitanza degli equilibri universali, fra il Dionisiaco, cioè la spinta del caos, della passione, dell'incontrollabile, e invece l'Apollineo, il dominio della forma, della bellezza, della geometria e via dicendo. E sono due forme che vengono incrinate proprio dal dominio della forza. Cioè è la forza di nuovo, intesa come protagonista della vicenda, a irrompere e a distruggere questo equilibrio fra Apollineo e Dionisiaco. Vernon scrive, che è uno dei principali commentatori, se l'offesa di Agamennone incrina la forma di Achille, la morte di Patroclo la spezza. L'evento sconvolge ogni norma con la forza cosmogonica dell'eros ferito e restituisce alla morte stessa la sua verità, il suo volto. E il volto della morte che si rivela ora ad Achille non è quello di Thanatos, l'ideale maschile della bella morte, la nobile morte del guerriero. È invece il volto di Medusa, simbolo dell'altra morte, quella che trasforma l'essere vivente in cadavere, il cadavere in carogna. Questa è una bellissima lettura che fa comprendere come gli eventi scatenati da molto tempo prima rispetto alle vicende dell'Iliade rendono inevitabile incrinare gli equilibri di Achille e di Ettore. È in questo senso che la forza è la protagonista della vicenda, più dei personaggi. E abbiamo da un lato Achille quindi e la Bespalov ci scrive quanto segue. In ultima analisi, Omero svela la natura profonda degli esseri non nelle loro azioni ma nel modo che hanno di amare, nella scelta d'amore. Ettore dimentica tutto in ciò che ama. In Patroclo, Achille adora soltanto il proprio riflesso purificato. In Teti, sua simile, l'origine sacra della sua stirpe. Quindi già vengono messe due differenze, di nuovo Apollineo e Dionisiaco, ok, fra Ettore e Achille. A il culmine della guerra e dell'odio, sotto la minaccia incombente, fiorisce, forte e pura, un'intimità perfetta tra due esseri. L'amore tra Andromaca ed Ettore, l'amicizia fra Teti e Achille. L'assassino del giovane Licaone può spogliarsi di ogni pietà, di ogni umanità, ma resta pur sempre il figlio di Teti. A lei, Achille, deve quel non so che di etereo nella forza, di inatteso nella generosità. Non c'è bassezza in Achille. La forza pura è così forte da disprezzare la menzogna e disdegnare l'astuzia. Uccide, non svilisce, né si svilisce nel compiacimento. La duplice natura di Achille, umana e divina, genera in lui solo contrasti e dissidi, in quanto Dio invidia gli dèi l'onnipotenza e l'immortalità, in quanto uomo invidia le belve la ferocia e vorrebbe fare a pezzi il corpo della sua vittima per mangiarlo crudo. Questo lo dice anche la citazione che poi andremo a leggere. L'ebbrezza del dispendio di sé negli accessi di aggressività orgiastica non implica né capacità di sacrificio né senso di responsabilità. Attorniato dai suoi mirmidoni, più capobanda che re, Achille si preoccupa ben poco per il suo regno. Sa che il destino può portarlo al termine della morte, per due diverse strade. Lui è scelto il sentiero scosceso che si ferma sull'ordo del baratro. Pur di non privarsi del piacere di dare una bella batosta ai troiani, di vendicare Patroclo, di far tremare amici e nemici, accetta di non rivedere mai più la patria, il padre, il figlio Nettolemo. Non è l'eroismo di Achille a tenerci con il fiato sospeso, ma il suo scontento, la sua meravigliosa ingratitudine. Achille è il gioco della guerra, la gioia di saccheggiare città troppo ricche, la volutà dell'ira che, molto più soave delle gocce di miele, monta nel petto degli uomini, il clamore dei trionfi inutili, delle imprese folli. Senza Achille l'umanità vivrebbe in pace. Senza Achille l'umanità si rattrappirebbe, si addormenterebbe congelata dalla noia ben prima del raffreddamento del pianeta. Ragazzi, questa cosa qua è fenomenale, cioè nel senso è un pezzo che dice veramente che va a individuare esattamente la caratura di Achille. Achille è l'inaccettabile necessario. Quel ciclone, quell'ira devastante non è qualcosa che possiamo decidere di espungere dell'umanità, non possiamo decidere di togliere di mezzo le passioni perché diventeremo dei robot, ma quella passione, quando si scatena, manda all'aria tutto. E cos'è che manda all'aria? Manda all'aria il tentativo di mantenere in ordine la propria casa, che è la caratura invece di Ettore. Perché Ettore, al contrario di Achille, è colui che vuole mantenere un ordine basato sulla tradizione, basato sull'umanità. E scrive Bespalov, la missione di Achille è di rinnovare nelle devastazioni le fonti e le risorse dell'energia vitale. Quella di Ettore è di salvare con il dono di sé, la sacra funzione la cui tutela garantisce al divenire una continuità profonda. Ettore è continuità, appunto è forma, è concatenazione, è tradizione, è mancanza di rotture, è perfetta comprensione. Achille è la devastazione, il rinnovo, ciò che ridà forza ed energia alle sorgenti dell'umanità. E continua Bespalov, ma soltanto nell'istante dello scontro decisivo, la maturazione del coraggio fino alla completa padronanza di sé in Ettore e l'inasprimento dell'ira fino all'estasi omicida in Achille acquistano il loro vero significato. In questa luce i destini di Achille e di Ettore sono accomunati nella lotta, nella morte e nell'immortalità. Laddove la storia si limita a mostrare bastioni e frontiere, la poesia scopre, al di là dei conflitti, la misteriosa predestinazione che rende degni l'uno dell'altro gli avversari chiamati a un duello inesorabile. Omero non chiede riparazione se non nella poesia, la quale strappa la bellezza riconquistata e il segreto della giustizia negato alla storia. Essa sola restituisce al mondo tenebrato dalla fierezza oltraggiata dalla superbia nei vincitori il silenzio dei vinti. Insomma è un qualcosa di estremamente nostro, molto nostro. Però qua concludiamo il primo capitolo. La forza fa tutti piccoli, tutti quanti. Gli dei, i semi dei e anche ovviamente gli esseri umani. Allora torniamo alla nostra chat. Meraviglie. Abbiamo intanto grazie agli abbonamenti Giacomo Tacconi, Mark Lamblin che ha regalato un abbonamento, grazie a Andrea Ursini e grazie a Neapolium. Grazie mille a Benedetta anche grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti. Allora andiamo a prendere qualche domandina così io mi riposo un attimo e recupero le energie. Edoardo chiede solo a me leggendo il Silmarillion di Tolkien sembra di sentire molte ispirazioni provenienti dall'Iliade. Allora sai che io ho moltissimo il Silmarillion lo sapete ci ho fatto svariati video però devo dire che sono secondo me due epiche molto diverse. Cioè sono proprio due approcci filosofici diversi. Non mi viene da affiancarli così. Ci sono degli elementi sicuramente ma non mi viene da affiancarli così facilmente. Devo essere sincero. Danilo chiede. L'Iliade dimostra che la guerra è insita all'interno dell'animo umano e che la pace è uno sforzo razionale della società moderna? L'Iliade dimostra che la guerra intesa come comportamento umano è la conseguenza inevitabile del polemus interiore. del fatto che noi siamo fatti di cose che non stanno insieme in santa pace. Antonio dice ho sempre visto l'Iliade come metafora della vita delle difficoltà e degli eventi che un uomo deve affrontare nella propria vita. La forza e la casualità di tali eventi? No non è soltanto questo non è soltanto la casualità è proprio il fatto che ci sono dei ci sono dei demoni che prendono il sopravvento nella nostra vita. Secondo me questo è il punto essenziale. L'Alieno chiede credi che per quanto memorabili i versi di Monti appesantiscano la lettura per l'odissea esiste una versione tradotta in prosa dall'inglese senza passare dal greco che ne pensi iniziative simili che non le conosco sinceramente quindi non saprei dirti sinceramente non saprei dirti. Alessandro dice questa presenza così inevitabile dell'istinto di essere soggiogati dalla forza in noi come si potrebbe tentare di controllarlo in favore della diplomazia? Allora la risposta che darebbe Omero e la risposta che troviamo in queste opere è molto pessimista. Lo spazio è ritagliato da pochi in rari momenti. Nell'Iliade lo spazio lo trova la pietà nei confronti di Priamo alla fine del poema. Ci sono degli sprazzi di pietà quando muore Patroclo nelle suppliche di Andromaca ad Ettore ma normalmente no. Credo che la società moderna sia riuscita culturalmente a sviluppare maggiori spazi di dialogo e diplomazia. È il motivo per cui siamo qui e non siamo tutti quanti distrutti. È il motivo per cui l'Europa odierna con le due tre eccezioni che conosciamo ha vissuto un periodo di pace piuttosto prolungato. Però non mi addentrerei troppo in questo discorso perché poi finiamo troppo nell'attualità. Alejandro chiede secondo te la traduzione può portare alla perdita di concetti intraducibili? Mi viene in mente di kaiosnie tradotta con giustizia di che sebbene i due termini abbiano significati un po' differenti ma sicuramente così sono tanti. Io poi lo dico e io non ho studiato greco quindi non non sono adeguato a dare un giudizio chiaro in questo senso. Posso dirti quello che c'è scritto nei saggi, quello che ho studiato all'università, quello che mi è stato detto da anche professori che si occupano di queste cose. Perdi inevitabilmente delle cose ma le perdi perché le parole di 2700 anni fa avevano dei connotati totalmente diversi inevitabilmente quindi non è un motivo per non leggerle evidentemente. Mr. Bog chiede con quale personaggio faresti una delle tue cogitate sul modello della parola Don Quixote e su quali temi? Eh questa è una bella 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 domanda. Ovviamente se devo prendere tutta l'epica omerica io la cogitata voglio farla con Odisseo. Quella l'ha già fatta Dante nell'inferno. Quindi sicuramente con Achille perché Achille è l'influencer di successo che involontariamente mostra la sua appartenenza inesorabile al genere umano. Allora detto questo io direi che possiamo anche iniziare con il secondo capitolo. Bevo un goccio d'acqua e poi partiamo ragazzi. Questa come avete capito probabilmente sarà un po' più lunga delle altre. Ma ci provo ad essere sintetico, ci provo. È che mentre leggo, mentre prendo gli appunti mi vengono in mente sempre 10.000 cose in più quindi devo frenarmi sempre da non far durare quattro ore. Allora secondo capitolo l'essere crudeli ci trasforma e partiamo ancora con una lettura tratta da Simone Veil. Quando ci si è dovuti mutilare di ogni aspirazione a vivere per rispettare la vita degli altri occorre uno sforzo di generosità da spezzare il cuore. Tra i guerrieri di Omero nessuno si può reputare capace di un tale sforzo se non forse colui che in certo modo si trova al centro del poema, Patroclo, che seppe essere dolce con tutti e che nell'Iliade non commette niente di brutale o di crudele. Ma quanti uomini conosciamo in molte migliaia d'anni di storia che abbiano dato prova di una tale generosità così divina? A stento se ne possono nominare due o tre. Mancando di tale generosità il soldato vincitore è come un flagello della natura. Posseduto dalla guerra è diventato una cosa al pari dello schiavo sebbene in tutt'altra maniera e su di lui come sulla materia le parole sono senza potere. L'uno e l'altro a contatto con la forza ne subiscono l'effetto infallibile che rende quelli che tocca o muti o sordi. Tale è la natura della forza. Il potere che essa possiede di trasformare gli uomini in cose è duplice e si esercita da ambo le parti. Essa pietrifica in modo diverso ma in egual misura le anime di coloro che la subiscono e di coloro che la maneggiano. Di nuovo torna la forza. La forza che rende crudeli e la crudeltà che ci trasforma. Si parte dall'innocenza di Patroclo. Qui la Veil ci racconta appunto che Patroclo è forse uno dei pochi personaggi positivi della vicenda. Poi è un guerriero, fa un sacco di morti però insomma. E l'innocenza di Patroclo è molto simbolico il fatto che intanto viva una vicenda così cruenta e che sia poi il motivo che scatena l'epilogo devastante e cruento della vicenda. Allora andiamo al testo dell'Iliade e leggiamo cosa ci viene detto a riguardo di Patroclo. Prima ci viene raccontato il coraggio di Patroclo. Allora leggiamo quanto segue. Patroclo intanto incitava i cavalli e Automedonte a inseguire Lici e Troiani e fu un errore tremendo. Se avesse ascoltato le parole del figlio di Peleo, Achille, certo sarebbe sfuggito al destino fatale, alla nera morte. Vedete quanto Omero continua con questi what if, con queste ipotesi controfattuali. Se avesse ascoltato, se avesse fatto, se avesse... Perché tutta l'Iliade è impermeata di questa idea che puoi pensare finché vuoi che le cose potevano andare in un certo modo ma in realtà poi vanno come devono andare. Anche questo è lo scollamento del pensiero dalla realtà, lo scollamento del giudizio dalla forza. La forza svolge la storia, il pensiero la guarda inerte, inerme e può soltanto dire se le cose fossero andate in un certo modo. È un pensiero molto pesante, ma andiamo avanti con il testo. Ma sempre la mente di Zeus è superiore a quella degli uomini. È lui che mette in fuga un valoroso guerriero e lo priva della vittoria, oppure lo sprona a combattere. Fu lui che allora infuse coraggio nel cuore di Patroclo. Chi per primo e chi per ultimo uccideresti, Patroclo, quando gli dèi ti chiamarono a morte? Adrasto fu il primo e Autono e Checlo, Perimo, figlio di Mega, Epistore e Melanippo e poi Elaso, Emulio e Pilarte. Questi egli uccise. Gli altri si diedero tutti alla fuga. E allora per mano di Patroclo i figli dei Danai avrebbero preso Troia dalle altre porte perché la sua lancia era come una furia. Ma accanto alla torre ben costruita si stagliò Febo a pollo. Voleva dare aiuto ai troiani e per Patroclo meditava la morte. Per tre volte cercò di salire su una sporgenza dall'alto muro, Patroclo, e per tre volte lo respinse a pollo colpendo lo scudo lucente con le sue mani immortali. Ma quando per la quarta volta Patroclo si lanciò, simile a un dio, gridando con voce terribile, Febo gli disse queste parole. Indietro, divino Patroclo, non è destino che la città dei troiani superbi cada per mano tua e neppure per mano di Achille, che pure è molto più forte di te. Disse così e Patroclo si tirò indietro di molto per evitare l'ira di Apollo, signore dell'arco. Poi ovviamente c'è la morte di Patroclo e allora andiamo anche lì e poi ci facciamo qualche commento sopra. E Patroclo, vinto dalla lancia dal corpo del dio, indietreggiò fra i compagni per evitare la morte. Quando Ettore vide il nobile Patroclo che si ritirava, ferito dall'acuta arma di bronzo, gli venne vicino tra le file, lo colpì con la lancia al basso ventre, l'arma passò da parte a parte. Cadde con fragore l'eroe e per gli Akei fu un dolore immenso. Come quando un leone vince in lotta un cinghiale indomabile. Sulla cima del monte fieramente si battono per una sorgente d'acqua, un esigua sorgente dove entrambi vogliono bere e la forza del leone piega alla fine il cinghiale ansimante. Scusatemi, quanto è fenomenale questa immagine, Ettore e Patroclo come il leone e il cinghiale che si abbeverano a una sorgente d'acqua esigua, che solo uno dei due può bere. Che cos'è la sorgente? La sorgente è la forza. Qui abbiamo Ettore che perde il controllo, anche egli perde il controllo, compie un atto di cui non può misurare le conseguenze. Ma andiamo avanti. Così al forte figlio di Menezio, che tanti uomini uccise, Ettore, figlio di Priamo, tolse la vita con la sua lancia e trionfante gli disse Patroclo, certo credevi che avresti distrutto la mia città e che avresti tolto la libertà alle donne di Troia e sulle navi le avresti condotte nella tua patria. E invece, in loro difesa, i veloci cavalli di Ettore si sono lanciati al galoppo in battaglia. Fra i troiani che amano la guerra io sono il primo con la mia lancia, io che allontano da loro il giorno fatale. Tu invece qui sarai divorato dagli avvoltoi. Infelice, non ti sarà d'aiuto per quanto forte Achille, che forse mentre te ne andavi molti consigli ti diede, lui che restava. Non ritornare Patroclo che guidi il carro da battaglia, non ritornare alle concave navi prima di aver squarciato il petto e insanguinato la tunica di Ettore, uccisore di uomini. Così ti disse e persuase il tuo animo ingenuo. Questo non è vero, lo sappiamo, Ettore qui. Un po' vuole avvelenare, un po' se la racconta, anche per giustificare il suo gesto e il suo atto. E continua. Morendo, così gli rispondesti, Patroclo, guidatore di carri. Puoi vantarti, Ettore, ora. Zeus, figlio di Crono e d'Apollo, ti hanno concesso di vincere. È stato facile per loro piegarmi. Sono loro che hanno tolto le armi dalle mie spalle. Ma se venti guerrieri come te mi fossero venuti davanti, tutti sarebbero morti, abbattuti dalla mia lancia. Il destino funesto e il figlio di Latona mi hanno ucciso, e tra gli uomini, Euforbo. Tu, che mi finisci, sei il terzo soltanto. Un'altra cosa ti dirò, e tu ricordala bene. Non andrai lontano. Già ti sono vicini la morte e il destino implacabile. Morirai per mano di Achille, della nobile stirpe di Eaco. Parlava ancora, e il velo della morte lo avvolse. L'anima volò via dal corpo e se ne andò dall'Ade piangendo il suo destino, la forza e la giovinezza perdute. Al morto rispose Ettore glorioso. Perché, Patroclo, mi predici la morte? Chi può sapere se sarà Achille invece il figlio di Teti dai bei capelli, a perdere la vita prima di me, colpito dalla mia lancia? Disse così, e puntando il piede sul corpo, diverse dalla ferita la lancia di bronzo, rigettando a terra su Pino il cadavere. Poi, con la lancia, si mosse verso Automedonte, il divino scudiero di Achille dai piedi veloci. Voleva colpirlo, ma lo portarono via i veloci cavalli, i cavalli immortali, che gli dèi diedero a Peleo, dono mirabile. Questo è l'episodio centrale dell'Iliade, quello che poi porta l'ira di Achille, quella per l'offesa di Agamemnon, a trasformarsi nella devastazione. La forza ci fa crudeli. Anche qui vediamo un Ettore crudele, un Ettore che ci sorprende da un certo punto di vista, perché noi l'abbiamo conosciuto come padre amorevole, marito affettuoso, difensore della città. Noi qui lo vediamo crudele, perché la forza ci trasforma, la crudeltà ci porta a essere e diventare ciò che non vorremmo. Ci porta ad essere strumenti di quel destino che ormai ha intessuto le trame senza che noi potessimo effettivamente sottrarci a quello che già è stato deciso. E quindi la forza ci fa crudeli e la crudeltà ci trasforma in zombie, ovvero in entità incapaci di riflettere. Per quanto durante la prima metà del poema ci siano molti momenti in cui Ettore viene messo di fronte all'evidenza. Secondo cui il vincitore, come dicevo anche prima, pagherà caro la propria vittoria e spesso è il vinto stesso a dirglielo. Come adesso, Ettore uccide Patroclo e Patroclo gli dice guarda che il prossimo sei tu. Ed Ettore, pur conoscendo questa regola ineluttabile che nell'Eliade continua a svolgersi e mostrarsi, è talmente cieco perché pervaso dalla forza che gli diceva perché mi predici la morte? È cieco al proprio destino, anche se lui conosce perfettamente il suo destino e se l'ha ripetuto tante volte, ma la forza lo trasforma in uno zombie, cioè in un'entità incapace di riflettere, di giudicare in quel momento. La violenza non dà spazio al pensiero. E l'Eliade racconta in fin dei conti la banalità del male, così come narrata da Anne Arendt. Cioè l'idea che quando obbedisci alla forza, obbedisci alla violenza, obbedisci alla guerra, a un ordine, tu di fatto stai togliendoti di dosso la capacità di giudicare quell'ordine. Ed ecco dove sta quello che l'Arendt definirà il male. Sta nel fatto di lasciarsi trasportare da una forza che scatena i demoni interiori e che è totalmente incontrollabile. Il caos portato da Achille in questo caso diventa il caos portato da Ettore. È Ettore che trafigge Patroclo e scatena tutto il proseguo della vicenda. Il caos portato da Achille è, e che qui è incarnato da Ettore, è la bestialità immediata che obbedisce all'istinto. L'istinto è una delle forme della forza. È quella forza anarchica che ci porta a vivere in modo inconsapevole. E questo lo vediamo nei gesti e anche nelle decisioni. lo vediamo in tutto. E nell'Iliade troviamo questo testo. Aspetta che mi sia un po' rallentato il lettore di pdf, però adesso ve lo trovo. Nel frattempo io ringrazio anche quelli che stanno abbonando. Vedo degli abbonamenti e poi vi ringrazio durante la pausa, ma eccolo qua. C'è un pezzo in cui si vede perfettamente questa bestialità di Achille. Ed è quando si scatena l'ira contro Agamennone. Agamennone, che è un beota, un ubriacone, uno stronzo, è un prepotente, sicuramente trova di fronte a sé un Achille che iperreagisce e che dà vita a quel caos che poi porta alla tragedia dell'Iliade. Allora Achille, di fronte alle esortazioni di Agamennone, gli devi fare un bel respiro? Cos'è che risponde? Risponde, ubriaco, faccia di cane, cuore di cervo, che non osi combattere in armi con il tuo esercito né prendere parte agli agguati insieme agli achei valorosi. Lo temi come la morte? Certo, è molto più facile nel vasto campo dei Danai strappare i doni di guerra a chi osa contraddirti. Re che divori il tuo popolo, che regni su gente da nulla, altrimenti, figlio di Atreo, avresti offeso per l'ultima volta. Ma ora io dico e pronuncio un gran giuramento. Per questo scettro, che non metterà più fronde né rami da quando ha lasciato il tronco tagliato sui monti, che non fiorirà più perché la scura gli ha tolto il fogliame e la corteccia all'intorno e ora lo portano in mano i figli dei Danai, coloro che fanno giustizia e vegliano sulle leggi in nome di Zeus, questo sarà davvero un gran giuramento. Verrà un giorno in cui i figli degli achei tutti rimpiangeranno Achille e allora tu soffrirai e non potrai aiutarli quando molti di loro cadranno colpiti da Ettore, uccisore di uomini, e l'animo ti roderai per la rabbia di non aver onorato il più forte di tutti gli achei. Così disse il figlio di Peleo e scagliò a terra lo scettro, ornato di borchi e d'oro, poi si sedette. Anche qui Achille emette una profezia, lui fa la promessa, la promessa è quella di non combattere più e la profezia sarebbe quella secondo cui a un certo punto i greci rimpiangeranno enormemente questa decisione di Achille e infatti poi andranno con l'ambasciata a chiedergli ritorna e lui ritornerà soltanto quando Patroclo viene ammazzato da Ettore. Insomma un casino e anche qui c'è una risposta che mostra la mancata riflessione di Agamè non è preso dalla stessa ira, dallo stesso orgoglio, l'incapacità di fermarsi e dire beh sai forse è meglio fare un passo indietro. al contrario la meditazione anche codarda di Ettore mostra la via della riflessione perché Ettore è un personaggio che spesso si trova a riflettere sulle parole che gli vengono dette, a riflettere sui gesti che ha compiuto e questo lo si vede in un passo che peraltro è molto famoso dell'Iliade ed è questo. Vi avevo detto che ci sarebbero state tante letture ma questo è un testo che non si può affrontare senza tante letture. Quando è il momento in cui tu vedi la riflessione? Quando Achille fugge da Ettore, sono sul campo di battaglia, Achille sfida Ettore dopo che Ettore ha ucciso Patroclo e Achille comincia a scappare e tu dici oh cazzo ma non è un eroe è un vigliacco. Certo perché è umano. Allora scrive Omero tutti gli dèi stavano a guardare e tra di essi incominciò a parlare il padre degli dèi e degli uomini. Ahimè che cosa vedo? Inseguono intorno alle mura un uomo che mi è caro. Il mio cuore piange per Ettore che sulle vette dell'ida ricco di forre o sulla rocca della città ha bruciato per me tante cosci di buoi e ora il divino Achille lo insegue con i suoi piedi veloci intorno alla città di Priamo. Ma riflettete dunque dei e considerate se dobbiamo sottrarlo alla morte o lasciare che Achille figlio di Peleo lo uccida anche se è un valoroso. Di nuovo Zeus chiede di poter intervenire per cambiare il corso degli eventi. Gli rispose allora Atena la dea dagli occhi lucenti che cosa hai detto padre dio delle bianche saette delle nere nubi un uomo un mortale da tempo votato al suo destino vuoi sottrarlo alla morte crudele fa pure ma non tutti gli dèi ti approveranno. Replicò a sua volta Zeus dio delle nuvole non temere tritogenia figlia mia non parlo sul serio e voglio essere buono con te fa come desideri e non tardare più oltre. Le sue parole incitarono Atena che ardeva già d'impazienza con un balzo e la discese dalle vette dell'Olimpo intanto il veloce Achille inseguiva Ettore incalzandolo senza sosta come quando sui monti un cane insegue un cerbiatto dopo averlo stanato dal covo lo insegue per gole e valli e se questo si nasconde rimpiattandosi sotto un cespuglio ne fiuta le tracce e corre ostinato finché lo scopre. Così Ettore non riusciva a sfuggire il figlio di Peleo dai piedi veloci e tutte le volte che si lanciava verso le porte di Dardano sotto le solide mura sperando che i teucri lo difendessero con le frecce dall'alto tutte le volte Achille gli tagliava la strada e lo faceva deviare in pianura mentre lui stesso volava sempre in direzione della città. Così nel sogno non riusciamo a inseguire chi fugge. Chi fugge non riesce a fuggire chi insegue non riesce a inseguire così Achille non riusciva a raggiungere Ettore Ettore non riusciva a sfuggire ad Achille ed Ettore non avrebbe potuto evitare le dee della morte ma ancora una volta per l'ultima volta Apollo gli fu accanto agli infuse forza e agilità nelle gambe. Questo pezzo è bellissimo perché soprattutto il finale Achille non riusciva a raggiungere Ettore, Ettore non riusciva a sfuggire ad Achille. Un gioco infinito di fuga e di inseguimento e deve intervenire Apollo per far prendere coraggio ad Ettore e affrontare Achille. è un pezzo straordinario però è qui la riflessione eccolo lì in quello spazio infatti si parla del sogno che è una delle dimensioni della nostra mente è lì che si sviluppa la riflessione la riflessione che potrebbe fermare tutto sospendere ma è palese che non possiamo sospendere quel processo di forza e violenza che già si è scatenato da troppo tempo. La struttura di questo di questo testo è fenomenale il fatto non è mutabile tanto l'ira quanto la ragione sono l'illusione di potersi sottrarre al destino già scritto l'illusione di poter controllare e prendere il controllo ma non c'è nessun controllo ecco allora perché l'Iliad è definita da tanti critici come il poema dell'amarezza l'amarezza che credo il secondo protagonista dell'Iliad insieme alla forza è figlia della consapevolezza che tutto ciò tutto quello che accadrà è già scritto che né eroi né vigliacchi potranno mutare il corso su cui tutti noi siamo posti e che vinti e vincitori sono soltanto le facce degli stessi individui e che chi vince oggi verrà sconfitto domani a causa dell'anatema posto sulla sua testa da colui che è stato vinto. E direi che con questo possiamo concludere il secondo capitolo e tornare un po' chat siete ancora in tantissimi è bellissimo trovervi ancora così numerosi grazie mille vi faccio un applauso siete una community meravigliosa veramente grazie allora andiamo a leggere un po' di domandine vediamo un po' vediamo un po' non avete più fatto domande nella chat nella nel box blu non vedo domande nel box blu quindi significa che o sono stato chiarissimo oppure voi vi siete addormentati davanti alla live chiede enrico forse uno spiraglio per giungere all'equilibrio è quello di conoscere se stessi allora questo l'abbiamo trattato nella monografia sui pressocratici l'idea di conosci te stesso come noi la concepiamo nasce molto più tardi dell'iliade bisogna aspettare qualche secolo socrate perché nel pensiero ellenico di quelle dell'epoca america anche quella dei pressocratici non c'è l'idea che ci sia un te stesso che possa essere separato e distinto dal corpo l'abbiamo visto con i pressocratici l'anima non è qualcosa che si porta dietro la propria individualità l'anima anzi è un'opaca immagine che finisce nell'ade e che ricorda solo vagamente la vita dell'individuo a cui era legata quindi dal punto di vista omerico non c'è neanche quello spiraglio l'epica omerica un'epica molto pessimista conoscere te stesso dal punto di vista di omero non avrebbe nessun senso ovviamente dal mio punto di vista sì dal suo no alejandro dice quindi per i greci non esisteva il libero arbitrio il destino di ogni essere umano era prestabilito questo è assolutamente indubitabile la ciclicità del tempo linee luttabilità l'inesorabilità degli eventi sono un elemento chiarissimo in tutta questa epica uno spiraglio di libertà comincia a svilupparsi di nuovo con platone e successivi ma prima è molto chiaro che non c'è neanche lo spazio per poter parlare di libero arbitrio spaperatore chiede siamo al corrente di testi greci andati perduti di importanza paragonabile all'iliade e no se sono andati perduti no ci sono tanti testi di cui si parla di autori ovviamente tutta la tradizione tutta la tradizione orfica noi sappiamo che nella tradizione orfica c'erano dei c'erano dei dei testi importantissimi che hanno anche in parte ispirato a quanto sappiamo come detto nella monografica sui presocratici che vi consiglio di recuperare anche l'epica omerica però ovviamente non sappiamo bene di cosa si parli ci sono ovviamente i testi pitagorici che sappiamo sono stati importanti e perduti quindi ci sono poi che fossero di importanza paragonabile a quelli dell'iliade dell'odissea questo non te lo so sinceramente dire shadow grafica chiede ma il fatto che zeus è il capo degli dei non vale proprio nulla è il padre degli dei zeus la gerarchia che c'è fra gli dei una gerarchia un po strana magari un giorno ci facciamo un daily cogito su quello che potrebbe essere più interessante non non spendo troppo tempo adesso su quello ultima domanda e poi passiamo all'ultimo capitolo il sen chiede tra l'altro sbaglio gli dei non appoggerebbero zeus nell'intervenire tra chi l'ha detto proprio perché ciò implicherebbe violare la il destino sì assolutamente assolutamente sì sì beh zeus infatti non è che non è che sono sempre d'accordo anzi zeus spesso viene bacchettato dai suoi e direi che possiamo passare all'ultimo capitolo allora terzo capitolo l'amarezza la sofferenza la pietà partiamo sempre con una citazione da simone veil la tragedia attica almeno quella di eschilo e di sofocle è la vera continuazione dell'epopea omerica il pensiero della giustizia la illumina senza mai intervenirvi la forza vi appare nella sua fredda durezza sempre accompagnata dagli effetti funesti ai quali non sfugge né chi ne fa uso né chi la soffre l'umiliazione dell'anima sotto la costrizione non vi è mascherata né avvolta di facile pietà né additata al disprezzo più di un essere ferito dalla degradazione della sventura e offerto all'ammirazione il vangelo è l'ultima e meravigliosa espressione del genio greco come l'iliade ne è la prima lo spirito della grecia vi traspare non soltanto perché vi si ordina di ricercare a esclusione di ogni altro bene il regno di dio e la giustizia celeste ma anche perché vi è esposta la miseria umana e questo in un essere a un tempo divino e umano i racconti della passione mostrano che uno spirito divino unito alla carne è alterato dalla sventura trema davanti alla sofferenza e alla morte si sente al fondo dello sconforto separato dagli uomini e da dio il sentimento della miseria umana da loro quell'accento di semplicità che è il marchio del genio greco e che costituisce tutto il pregio della tragedia greca e dell'iliade certe parole rendono un suono stranamente prossimo a quello dell'epopea e l'adolescente troiano inviato ad ade all'ade sebbene non volesse andarvi torna alla memoria quando il cristo dice a pietro un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vuoi andare questo accento non è separabile dal pensiero che ispira il vangelo perché il sentimento della miseria umana è una condizione della giustizia e dell'amore colui che ignora fino a che punto la volubile fortuna e la necessità tengono ogni anima umana in loro potere non può considerare come suoi simili né amare come se stesso quelli che il caso ha separato da lui con un abisso la diversità delle costrizioni che pesano sugli uomini fa nascere l'illusione che ci siano tra loro specie distinte che non possono comunicare è possibile amare ed essere giusti solo se si conosce l'imperio della forza e si è capaci di non rispettarlo ho scelto questa citazione non solo perché c'è questo strambo connubio fra l'iliade e il vangelo testi separati da più di 700 anni di storia e separati anche da una differenza culturale decisamente importante ma perché io ogni volta che in passato prima di leggere il testo della veil avevo letto l'iliade non riuscivo a non pensare a questo tipo di affiancamento e quando l'ho trovato nel libro della veil ho detto wow seriously perché in fin dei conti l'idea secondo cui sul campo di battaglia non esistono vincitori nevinti non esistono neanche nella storia umana vincitori o vinti è la traduzione pre cristiana del patto con cui gesù cerca di trasmettere l'idea che tutti sono figli di dio la equivalenza di tutti gli uomini di fronte a dio che è il connotato credo più rivoluzionario del cristianesimo all'interno delle religioni monoteistiche e nell'ide si trova 700 anni prima e si trova il fatto che ad avvicinare gli esseri umani in questa concezione non è la vittoria non è il successo è l'angoscia è la miseria è la sofferenza è il dolore è la pietà e la pietà sappiamo che è comunque considerata come una virtù nell'ambito cristiano e lo è palesemente anche nell'ambito dell'iliade la giustizia l'idea di bene c'è in omero è un'idea che traspare molto spesso fra le parole fra le righe ed è dal mio punto di vista anche e non solo dal mio punto di vista ne parla anche heidegger tanti altri la nascita della metafisica occidentale è l'idea che esista un mondo ideale non come il paradiso l'inferno noi sappiamo che l'ade nella tradizione omerica è un è un posto come tutti gli altri non è un un luogo spirituale un luogo dove si scende si può visitare puoi fare il biglietto come a gardaland esiste un luogo ideale in cui giacciono le idee del pensiero la giustizia il bene cose che poi ritroveremo nel resto del pensiero greco quattro secoli dopo con platone la giustizia c'è il bene c'è solo che non intervengono non sono delle idee che abbiano un impatto sulla realtà la saggia comprensione di ciò che andrebbe fatto non riesce mai a compiere il suo desiderio questa è l'amarezza che accompagna l'iliade e questa è la tragedia della vita umana e nella storia del pensiero occidentale è come se nell'epica omerica ci fosse passatemi il termine l'invenzione di questo mondo ideale che però ancora nell'epoca di omero nessuno riesce a prendere e portare giù il mondo ideale rimane nel mondo degli dei sull'olimpo in un mondo che è ultra umano ultra terreno irraggiungibile bisognerà far passare secoli e secoli per arrivare alla filosofia e cos'altro è la filosofia se non il tentativo di prendere quel mondo ideale e portarlo giù e far sì che la riflessione intorno alla giustizia abbia finalmente un impatto sul mondo che riesca a contrastare la forza la storia dell'occidente è storia di un'umanità che cerca di prendere le idealità divine portandole giù sulla nostra terra cerca di prendere l'idea di giustizia e di usarla come specchio per conformare una società a quell'idea il mondo delle idee di platone è questo e dal mio punto di vista poi sicuramente qualcuno sarà in disaccordo e ci mancherebbe qui la discussione aperta però non avremmo mai avuto platone senza omero senza le storie di omero perché le storie di omero sono veramente la nascita della metafisica che poi cerca di secolarizzarsi e di usare quelle idee distanti inefficaci etere dell'iliade la giustizia il bene il bello e di usarle per costruire una società a immagine di quelle idee questo forse è l'elemento che più di tutti gli altri parla di noi questo è il motivo per cui ho aperto la monografica dicendo guarda che questo è il poema fondativo dell'occidente perché questa cosa questa storia delle idee non c'è in oriente non c'è in altre parti del mondo la tecnica nasce proprio come tentativo di portare nel mondo quelle idee che nella guerra di troia non sono nel mondo per allargare gli spazi di riflessione che impediscano alla forza caotica di dominare di possedere tutti noi al costo di eliminare achille eliminando achille eliminare anche ettore evidentemente questo nice lo comprese perfettamente lo comprese quando definì il dionisiaco come lo spirito che veniva espulso dall'occidente l'incapacità di incarnare dioniso è parte integrante di quella storia e ovviamente la domanda che ci viene posta è siamo ancora noi capaci di sopportare l'esistenza di achille e di ettore dell'apollineo e dell'ionisiaco questa domanda aperta evidentemente a cui io non ho risposta ho delle idee che discuteremo in altri ambiti ma non ho la risposta ognuno deve trovarla in cuor proprio questo è il motivo per cui l'iliade fonda la nostra cultura parla di noi quanto dioniso riusciamo a sopportare nella nostra vita quanto achille c'è nella nostra vita e se siamo convinti di averlo espulso siamo veramente convinti di averlo espulso potremmo star qua a discutere quanto questo poema abbia dato anche il fondamento di quello che sarà il freudismo cos'altro è l'inconscio di freud se non una delle immagini con cui achille permane nella nostra cultura leggiamo un passo dell'iliade per far capire ulteriormente questo aspetto allora nota 11 ho perso la nota 11 ho perso la nota 11 eccola qua questo pezzo che è credo il più famoso dell'iliade a parte l'incipit che è la supplica di andromaca guardando il figlio sorrise ettore senza parlare ma andromaca gli fu vicina piangendo gli prese una mano e gli disse infelice la tua forza sarà la tua rovina non hai pietà del figlio ancora bambino e di me sventurata che presto resterò vedova perché gli achetti uccideranno tra poco assalendoti in massa e se ti perdo allora è meglio che muoia anch'io non ci sarà più conforto per me se il tuo destino si compie solo dolore ho perduto mio padre e mia madre il padre me lo uccise achille glorioso quando distrusse la bella città di cilici tebbe dalle altre porte dalle alte porte uccise e zone ma ne ebbe rispetto non gli tolse le armi con le armi splendenti lo depose sul rogo e poi sparse la terra sul tumulo piantarono olmi intorno alle ninfe della montagna le figlie di zeus signore dell'egida sette fratelli avevo nella reggia e tutti nello stesso giorno scesero nell'ade tutti li uccise il divino achille dai piedi veloci mentre sorvegliavano i buoi dalla lenta andatura e le candide pecore mia madre che sotto il placo boscoso era regina la condusse qui con tutti i suoi beni poi la liberò a prezzo di ingente riscatto martemide signora dell'arco nella dimora di mio padre la uccise tu ettore tu mi sei padre e madre e fratello e se anche il mio giovane sposo abbi pietà di me resta qui sulla torre non fare del figlio uno orfano di me una vedova ferma l'esercito vicino al fico selvatico dove è più facile attaccare la città salire sulle mura per tre volte sono venuti a tentare l'assalto gli achei più forti gli aiaci i domeneo glorioso gli atridi e il grande figlio di tideo spinti da qualche profezia o guidati dal loro stesso coraggio le rispose allora il grande ettore dall'elmo splendente donna so anch'io tutto questo ma terribile è la vergogna che prova davanti ai troiani e alle troiane dai lunghi pepli se come un vile mi tengo lontano dalla battaglia ve ne impedisce il mio cuore perché ho imparato ad essere forte sempre a combattere coi troiani in prima fila per la gloria di mio padre per la mia gloria io lo so bene nel cuore nell'animo verrà il giorno in cui perirà la sacra città di ilio e con essa priamo e la gente di priamo della lancia gloriosa ma al dolore dei troiani io non penso non penso ad ecuba al re priamo ai miei valorosi fratelli che cadranno nella polvere uccisi dai nemici io penso a te a quando qualcuno degli achei vestiti di bronzo ti priverà della tua libertà e ti trascinerà via in lacrime a quando in argo dovrai tessere stoffe per un'altra donna o porterai acqua delle fonti messeide o di iprea contro il tuo volere costretta dalla dura necessità e forse qualcuno dirà vedendoti piangere è la sposa di ettore che fra i troiani domatori di cavalli era il più forte quando si combatteva intorno ad ilio così diranno un giorno e sarà un nuovo dolore per te privata di un uomo che avrebbe potuto tenerti lontano dal giorno della schiavitù ma possa io morire possa ricoprirmi la terra prima che ti sappia trascinata in schiavitù prima che debba udire le tue grida vedete tutti sanno cosa accadrà ma sanno anche che nulla può impedire che accada l'amarezza nelle parole di ettore e di andromaca è legato al fatto che sanno cosa accadrà e sanno che nessuno può fare nulla per impedirlo la preghiera di andromaca è la riflessione è l'atto di dire guarda che so cosa succederà ma è la consapevolezza che questo pensiero sta sempre un passo indietro rispetto agli eventi omero ci racconta la sopravvalutazione del sapere che è una cosa che dopo omero l'occidente cercherà continuamente di combattere perché perché di nuovo dall'iliade in poi l'occidente cerca da sempre di far sì che il sapere possa anticipare il destino qualcuno potrebbe chiamarla hubris qualcuno potrebbe chiamarla scienza qualcuno potrebbe chiamarlo secolarizzazione evoluzione fatto sta che tutto nasce lì tutto nasce da questo da questo dialogo familiare semplice fra ettore e andromaca fra lo sposo e la sposa fra due amici andromaca fa una domanda che non può trovare risposta perché te ne vai in battaglia sapendo quello che accadrà la risposta è perché è già tutto accaduto e posso solo prendermi nella responsabilità questo è quello che dice Ettore è già tutto accaduto e vedete questo pensiero angoscioso terribile ci ricorda che non dobbiamo sopravvalutare il sapere e che il fatto di sapere di conoscere di avere strumenti non ci sottrarrà dal fatto che le cose sono già accadute ed è per questo che nella storia della filosofia Nietzsche e poi Heidegger diranno che la metafisica è stata una sorta di grande errore e che poi alla fine ritorniamo sempre lì ritorniamo sempre a dover dire ok tutto ritorna inevitabilmente tutto è inesorabile non importa quali strumenti quali armi quali libri quali saggi quali consapevolezze tutto ritorna e in quella sopravvalutazione del sapere l'unica cosa che possiamo effettivamente compiere è l'atto di pietà se sapere non ha effetto sul destino di cui tutti siamo partecipi e in cui tutti siamo carne da macello vincitori e vinti sullo stesso piano possiamo soltanto effettivamente avere consapevolezza della nostra miseria questa è l'amarezza dell'Iliade e così Andromaca e Priamo ma anche Achille e Teti tutti sono destinati a una sofferenza inesorabile vado alle ultime letture aspettate che le trovo ovviamente in realtà devo trovare un modo diverso eccolo qua a un certo punto Apollo interviene mentre Ettore scappa e pensa Ettore trova coraggio si volta smette di fuggire e dice non fuggirò più davanti a te figlio di Peleo come prima quando per tre volte ho corso intorno alla grande città di Priamo e non avevo animo di aspettare il tuo assalto adesso invece sento in me il coraggio di starti di fronte ti ucciderò o mi ucciderai ora però giuriamo davanti agli dei che saranno i testimoni migliori e i garanti del nostro patto io non strazierò il tuo corpo in modo indegno se Zeus mi concederà di vincere e di toglierti la vita ti spoglierò delle tue armi gloriose Achille ma il tuo corpo lo restituirò agli Achei anche tu restituisci il mio guardandolo con odio gli rispose Achille dai piedi veloci Ettore dannato non parlarmi di patti non esistono accordi fedeli tra uomini e leoni e lupi e agnelli non hanno animo uguale la discordia è fra loro per sempre così anche fra me e te amicizia non vi sarà mai non vi saranno patti fra noi prima che l'uno o l'altro muoia e sazi col suo sangue Ares l'indomabile dio della guerra fa appello al tuo valore è adesso che devi mostrarti un audace e valoroso guerriero non hai più scampo perché palla di Atena e la mia lancia ti abbatteranno pagherai in una sola volta il lutto per i compagni che hai ucciso con furia dalla tua lancia la mancanza di misericordia è ciò che rappresenta l'atto finale della forza indomabile di Achille ecco perché la forza è disumana perché l'umano è la dimensione della misericordia e della pietà l'umano è guardare il mio nemico e dire non è mio nemico siamo uguali la forza è destinale preumana divina perché ci impedisce di vedere questo la forza ci possiede ci trasforma in zombie obbedendo a un istinto e trasforma l'altro in hostis non più in un mio simile rivale ma in qualcosa di disumano di altro leone e pecora agnello e lupo due specie diverse questa è la menzogna che Achille si deve raccontare per non accorgersi di quanto Ettore gli sia simile l'unico modo per far sì che Achille uccida Ettore è mantenere vivo quell'odio pre-personale istintivo bestiale che deve per forza promettere ad Ettore che se morirà verrà straziato è la rottura di qualsiasi patto è la rottura di qualsiasi convenzione è la distruzione di tutto ciò che effettivamente ha a che fare con ciò che è umano non ci può essere patto e il patto è proprio ciò che è umano e poi allora arriva l'altra lettura che adesso vi trovo forse trovo aspetta un attimo eccola qua Achille fa secco Ettore comincia a trascinarlo sulla biga davanti alla città di Troia e le donne la madre di Ettore le donne di Troia cominciano a urlare in modo straziante e queste urla raggiungono Andromaca e scrive Omero ma la sposa di Ettore nulla ancora sapeva nessun messaggero fidato era venuto ad annunciarle che fuori dalle porte era rimasto il suo sposo lei tesseva una tela nel cuore dell'alto palazzo una tela di porpora doppia e vi ricamava ogni sorta di fiori aveva ordinato alle ancelle dai bei capelli di mettere al fuoco un grande tripode perché Ettore trovasse caldi lavacri al ritorno della battaglia non sapeva ancora che molto lontano dai suoi lavacri Atena la dea dagli occhi azzurri lo aveva ucciso per mano di Achille udissi inghiotti e gemiti che venivano dalla torre fu scossa da un tremito a terra le cade la spola e subito disse alle schiave dai bei capelli due di voi mi seguono andiamo voglio vedere che cosa è accaduto ho udito la voce della mia nobile suocera e il cuore nel petto mi è balzato fino alle labbra le mie ginocchia si piegano una sventura incombe sui figli di Priamo non vorrei sentirmi annunciare questa notizia ma temo temo che Achille divino abbia tagliato fuori dalla città il valoroso Ettore solo e che lo insegua nella pianura e riesca a stroncare quella udacia indomabile che lo possiede perché lui non resta mai in mezzo agli altri guerrieri ma è sempre avanti a tutti e tutti supera col suo coraggio disse così e si si lanciò fuori dalle sue stanze come una pazza il cuore in tumulto andavano insieme a lei le ancelle quando giunse alla torre in mezzo alla folla si arrestò sulle mura guardando intorno e lo vide trascinato davanti alla città i cavalli veloci lo portavano indegnamente verso le concavi navi dei Danai è un è un pezzo devastante questo devastante perché pur sapendolo pur avendoglielo detto e sapendo quello che sarebbe accaduto Andromaca è a casa a tessere a preparare un bagno caldo ad Ettore un bagno caldo nessuno arriverà per quel bagno caldo non sapeva che molto lontano dai suoi lavacri lontano da casa lontano dalla dimensione di casa scusate ma è un pezzo che mi mi muove molto questo perché perché un pezzo proprio vero cioè nel senso accade ancora tutto questo cioè vorrei che ci rendessimo conto che questo accade accade che la forza il destino trascina la vita degli uomini lontano dai bagni caldi i bagni caldi la quotidianità il caminetto acceso il Natale in famiglia quelle cose di cui dobbiamo avere cura e che a un certo punto ci vengono sottratte perché la forza ha scatenato qualche cosa e l'amarezza sta nel sapere che tutto andrà come è sempre andato non tutto andrà come deve andare come è sempre andato perché la storia è un ciclo che si ripete e questa è l'amarezza e quello che Nietzsche dirà nella Gaia Scienza puoi tu guardare in faccia la consapevolezza di essere un granello di sabbia in una clessidra che viene sempre rovesciata e di aver vissuto infinite volte quello che stai vivendo hai quella forza Omero risponde con l'amarezza ed è proprio in base al fatto che questa amarezza accomuna tutti che Achille nel libro ventiquattresimo acconsente alla supplica di Priamo ovviamente questo è un brano che non potevo non leggervi perché è un altro brano straordinario di straordinario valore e che conclude questa grande epica lasciate che ve lo legga e poi passiamo al finale della live io sono un dio vecchio un immortale io sono Ermes ed è mio padre che mi ha mandato a te come guida ora tornerò indietro non mi farò vedere da Achille non è bene che un dio immortale mostri così apertamente il suo affetto per gli uomini ma tu entra abbraccia le ginocchia del figlio di Peleo pregalo in nome di suo padre di sua madre dai bei capelli e del figlio così che tu possa commuovere l'animo suo dopo aver detto queste parole tornò al vasto Olimpo il dio Ermes e Priamo scese a terra dal carro lasciò Ideo a sorvegliare muli e cavalli e si diresse alla tenda dove sedeva Achille amato da Zeus lo trovò che era solo stavano in disparte i compagni due di loro soltanto l'eroe Automedonte e Alcimio stirpe di Ares gli si affaccendavano intorno egli aveva appena finito di mangiare e di bere la tavola era ancora apparecchiata entrò il gran re senza essere visto e quando fu accanto ad Achille gli abbracciò le ginocchia e gli baciò le mani le mani terribili che tanti figli gli avevano ucciso come quando un'acuta follia travolge un uomo che in patria ha commesso omicidio e si rifugia in terra straniera nella casa di un uomo ricco e coloro che lo vedano restano attoniti così Achille restò stupefatto nel vedere Priamo simile a un dio stupirono tutti guardandosi gli uni con gli altri e Priamo si rivolse a lui con le parole di supplica ricordati di tuo padre divino Achille tuo padre che alla mia stessa età è delle soglie della triste vecchiaia e quelli che vivono intorno forse lo insidiano e non c'è chi lo difenda dalla sventura e dalla rovina ma lui almeno si rallegra in cuor suo sentendo che tu sei vivo e di giorno in giorno spera di rivedere suo figlio di ritorno da Troia ma la mia sventura è immensa ho messo al mondo valorosi figli nella grande città di Troia e di loro non me ne è rimasto nessuno 50 ne avevo quando giunsero i figli dei Danai 19 erano figli di una sola madre gli altri nacquero da altre donne nella mia reggia a molti di loro Ares ardente ha tolto la vita l'unico che mi restava colui che proteggeva la città e i cittadini Ettore tu l'hai ucciso mentre difendeva la patria è per lui che io ora vengo alle navi dei Danai per riscattarlo e porto doni infiniti abbi rispetto degli dei Achille e abbi pietà di me ricordando tuo padre io sono ancora più sventurato io che ho osato come nessun altro fra i mortali su questa terra portare alle labbra le mani dell'uomo che ha ucciso mio figlio così parlò Priamo e in Achille fece sorgere il desiderio di piangere per suo padre prese il vecchio per mano e lo scostò da sé dolcemente tutti e due ricordavano Priamo ai piedi di Achille piangeva per Ettore uccisore di uomini e Achille piangeva per suo padre e piangeva anche per Patroclo alto si levava dentro la tenda il lamento ma quando Achille glorioso fu sazio di lacrime quando il desiderio di pianto abbandonò le sue membra e il suo cuore allora si levò dal seggio prese il vecchio per mano e lo fece alzare e compiangendo i capelli bianchi e la bianca barba del vecchio si rivolse lui con queste parole infelice quante sventure hai patito nell'animo come hai osato venire alle navi dei danai da solo presentarti agli occhi dell'uomo che ti ha ucciso tanti figli valenti hai un cuore di ferro tra parentesi frase che Ettore disse ad Achille quando questi si rifiutò di non straziargli il cadavere ma riprendo hai un cuore di ferro ma ora siedi su questo seggio chiudiamo nell'animo per quanto sia grande la nostra angoscia a nulla servono pianti e lamenti hanno stabilito gli dèi che gli infelici mortali vivano nel dolore mentre loro non conoscono affanni nella dimora di Zeus vi sono due grandi orci che si dispensano l'uno i mali l'altro i beni li mescola il dio delle folgori e colui a cui ne fa dono riceve ora un male ora un bene e chi riceve dolori diventa un miserabile una insaziabile fame lo spinge per tutta la terra e lui va errando disprezzato dagli dèi odiato dagli uomini ecco gli dèi diedero a Peleo splendidi doni fin dalla nascita era superiore a tutti gli uomini per ricchezza e fortuna era re dei mirmidoni e benché fosse mortale gli diedero come sposa una dea ma poi gli inflisserò anche una sventura perché nel suo palazzo non sono nati figli destinati a regnare un solo figlio è nato dal breve destino e io non sono lì per avere cura di lui nella sua vecchiaia sono qui a Troia molto lontano dalla mia patria sono qui per la rovina tua e dei tuoi figli e anche tu vecchio lo sappiamo eri felice un tempo nella terra racchiusa fra l'esbo sede di Macaro la frigia il vasto e l'esponto eri superiore a tutti per la tua ricchezza per i tuoi figli ma poi gli dei celesti ti hanno inflitto questo dolore di vedere intorno alla tua città battaglie e carneficine fatti forza e non tormentarti senza tregua nell'animo a nulla ti servirà a piangere su tuo figlio non lo farai rivivere e forse dovrai patire qualche altra sciagura e poi ovviamente consente a riconsegnare il corpo di Ettore a Priamo mosso dalla pietà sapete quanto io sia poco religioso anzi proprio per niente però in questo testo trovo quel sentimento cristiano della pietà intesa non come misericordia gratuita che segnala agli altri la virtù ma come evidenza secondo cui io e te che ci siamo odiati siamo esattamente la stessa cosa perché siamo accomunati dal limite inevitabile della vita del fatto di essere indecidibili del fatto di essere pervasi da un destino inesorabile ora io non voglio entrare nelle mie interpretazioni di queste idee perché non è non è l'ambito non è il contesto giusto però credo che questa sia una delle idee più fenomenali mai partorite dall'umanità un'idea che troppo spesso dimentichiamo e che dimenticando ci permette di trasformare l'altro in qualcosa di disumano l'Iliade ci ricorda che persino Achille pervaso dall'ira funesta incapace di ragionare incapace di riflettere assassino di decine centinaia di giovani uccisore di Ettore straziatore del suo cadavere poteva riconoscere in primo se stesso ovvero fare quella cosa che soltanto Patroclo era riuscito a compiere fargli sentire la propria umanità l'Iliade è un testo che cerca di farci sentire la nostra umanità ed è per questo che andrebbe letto per commuoversi per ricordare che in 2700 anni di storia una cosa non è cambiata siamo ancora quegli stessi miserabili incredibilmente belli e affascinanti che perdono il controllo del proprio destino e che devono vivere la vita il più possibile accanto ai propri pensieri e ricordandosi che in fin dei conti anche il mio peggior nemico è semplicemente un altro miserabile come me e questa è l'amarezza l'amarezza della Iliade e abbiamo finito qua grazie a Goyu che ha appena regalato 10 abbonamenti grazie a Malefico Sintrip per 5 abbonamenti regalo grazie a Mr. Bok per un abbonamento un altro abbonamento regalo grazie a Giovanni Giacomo Mark per gli abbonamenti sono molto contento che questa monografica vi sia piaciuta direi che il numero di abbonamenti sottoscritti e regalati vi è piaciuta e vi ringrazio per aver ascoltato siamo ancora più di 400 persone alle 23 e 30 questa monografica è durata molto di più rispetto a quanto mi ero immaginato ma durante la monografica ho dovuto dire un sacco di cose che non avevo minimamente pianificato provo a vedere un attimo velocemente se ci sono delle domande Alejandro chiede se a livello filosofico non esisteva il libero arbitrio nell'antica grecia Gesù e successivamente il cristianesimo da cosa hanno derivato tale concetto è molto difficile rispondere a questa domanda anche di tante interpretazioni diciamo che soprattutto il neoplatonismo di fatto produce il concetto di individuo che però secondo me inizia a esistere già da prima il concetto di individuo il concetto di soggetto autonomo secondo me nasce con il conosci te stesso di Socrate e poi si evolve nell'idea di individuo più o meno nell'epoca nell'epoca dei Seneca nell'epoca dei Marco Aurelio e poi appunto dei Plotino neoplatonismo e via dicendo da quello prenderà fortissimamente il cristianesimo per creare e produrre l'idea di libero arbitrio però di nuovo bisognerebbe fare veramente una lunghissima monografia solo su questo non potrebbe essere le prigioni il sistema penitenziario la consapevolezza di dover vivere con la parte dionisiaco dell'essere umano Angie non credo di aver capito la tua domanda non capisco qual è il nesso fra le prigioni e il dionisiaco mi dispiace però io ho anche finito la benzina ragazzi quindi ho visto che c'erano altre domande ma sono veramente finito spero che sia stata una bella monografica io sono stato emozionato di potervi portare posso dirlo è un grande privilegio poter trascorrere due ore e mezza insieme parlando di cose così e leggendo testi di questo tipo da oggi in poi le monografiche tenteranno sempre di replicare questo tipo di spirito anche con opere minori perché mi piace emozionarmi con voi vedendo anche quanto voi riuscite a trarre da questo tipo di contenuti io vi ringrazio veramente tantissimo per aver seguito noi ci rivediamo domani alle 18 con Gennaro Romagnoli quindi torna un grande amico parleremo del suo libro e di psicologia e magari verranno fuori anche argomenti emersi durante questa serata grazie mille a tutti grazie per gli abbonamenti grazie per il sostegno continuate a seguirci io vi abbraccio e niente siete bellissimi siamo bellissimi siamo una delle community più belle della storia del mondo e lo siamo sempre stati e lo saremo sempre buonanotte grazie a tutti 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 grazie a tutti